Buccheri a rapina e lesioni, arrestato pregiudicato lentinese per lui oltre 10 mesi di reclusione. I carabinieri della stazione di Buccheri hanno arrestato un pregiudicato lentinese di 40 anni in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. All'uomo condannato ad oltre 13 anni di reclusione è stato notificato il provvedimento di cumulo pene per reanti di associazione di tipo mafioso, stupoficienti, armi e delitti contro il patrimonio commesse negli anni passati. Il quarantenne dopo le formalità del rito è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa dove dovrà scantare 10 mesi e 22 giorni di pena residua.